Ciao sono Silvia, vivo e lavoro a Treviso, sono docente di storia dell'arte in un liceo della città e circa un anno fa ho notato una certa alterazione dei capelli con caduta e fragilità che mi hanno portato a cercare una soluzione che non ho trovato nelle risposte datemi dal medici che ho consultato e quindi ho cercato in qualche modo di informarmi autonomamente su internet venendo a conoscenza di istituti che sono specializzati nell'affrontare questo tipo di problemi e così ho conosciuto anche l'istituto Sanders in città quindi facilmente raggiungibile e ho visionato delle recensioni, delle video interviste e anche l'opportunità di avere una prima valutazione del problema con una visita gratuita ecco mi ha spinto a tentare anche questa strada l'analisi specializzata in questo caso è stata eseguita con un esame obiettivo accurato un pull test un test al pettine e soprattutto un prelievo di capelli il prelievo di capelli è l'esame più importante che ci permette proprio di individuare quali sono le cause alla base delle più varie problematiche e questo ci permette poi di stabilire proprio un percorso che sia assolutamente personalizzato e che ci permette di risolvere il problema in maniera mirata e concreta mi sono fidata in qualche modo di quello che avevo percepito nella conoscenza di questo istituto professionalità e personalizzazione di un percorso che poi mi è stato proposto anche in questo primo incontro da uno staff in cui ho trovato accoglienza e preparazione a livello tecnologico ma anche di ricerca ho cominciato questo percorso augurandomi appunto che fosse efficace è stato un percorso lungo fatto di più fasi con una fase di cura con delle fiale da applicare quotidianamente è una fase del lavaggio ecco della dell'igiene e dopo la prima fase è cominciato a vedere i primi risultati che sono stati evidenti anche a chi mi conosce la mia stessa parrucchiera che oggi vedendo appunto i risultati sente anche lei di consigliare a clienti che possano avere stesse problematiche un percorso analogo che ripeto fatto di impegno costanza ma consiglio a chi ecco si trova a dover affrontare questi queste situazioni di intraprendere subito ecco non aspettare che il problema diventi un grande un grosso problema e seguire dettagliatamente ogni fase del percorso perché lentamente poi i risultati sono evidenti. Nel caso di Silvia in particolare abbiamo strutturato un percorso seguito proprio con l'applicazione di sostanze di derivazione naturale specifiche per le alterazioni che erano emerse nella sua situazione questo percorso ha portato a tutti i risultati risultati che sono stati poi confermati sia con i monitoraggi fotografici e sia con il prelievo di capelli che è stato proprio ripetuto alla fine del percorso per confermare risultati anche a livello biologico. Questo ci ha permesso in termini concreti di contrastare immediatamente l'eccessiva caduta e di conseguenza la perdita effettiva dei capelli e soprattutto di tornare a quella che era la salute e quindi la bellezza della massa che Silvia aveva prima di riscontrare questa problematica. Ad oggi, ecco, è trascorso un anno dall'inizio del mio percorso i risultati sono evidenti e non solo a me con relativi benefici sia dal punto di vista estetico, ritrovo la lucentezza e la salute dei miei capelli e anche a livello psicologico, un disagio che mi creava quella situazione che oggi sento di aver superato. Sono, posso considerarmi soddisfatta quindi del mio percorso e il mio consiglio è quello appunto di affrontare con fiducia a questo, ecco, di rivolgersi a chi è specializzato in queste problematiche che può offrire un approccio personalizzato al problema e oggi mi sento quindi non solo di consigliare ma di testimoniare la mia esperienza.